ben ritrovati cari amici da stilorso oggi andiamo a vedere un inchiostro un po particolare non molto diffuso di cui si è parlato poche volte stiamo parlando del laban demeter brown che dire di labana lavano un'azienda taiwanese come twisby come opus 88 che si distingue oltre per la produzione di penne anche per questi inchiostri questa linea dedicata alle divinità dell'antica grecia per cui in questa diciamo line up abbiamo anche artemide poseidon afrodite e appollo questo invece dedicato alla dea demetra per gli antichi romani cerere figlia di crono e rea sorella di zeus eccetera eccetera dea del grano e dell'agricoltura nonché artefice del ciclo delle stagioni eccetera eccetera un marrone è sempre un inchiostro con cui io mi approccio a volte con un po di diffidenza ma perché perché i marroni tante volte c'è questo sentire comune che marroni siano inchiostri un po complicati un po difficile da pulire e quindi non esagero quei marroni comunque andiamo a aprire la confezioncina la confezioncina troviamo una bella vasetto di vetro di metro brown 50 millilitri troviamo anche un piccuna piccola brochure in cui si parla appunto di questi inchiostri dedicati alla mitologia greca poseidonia pollo afrodite artemide solo per scrivere eccetera eccetera tutte le nostre raccomandazioni allora si tratta di un inchiostro a mio avviso molto interessante perché da quando l'ho potuto provare e l'ho provato su questa bella diplomat aero ha veramente un buon comportamento comunque andiamo un po ad aprire la boccetta qui invece troviamo una cosa che non mi piace perché il campo ottagonale è molto bello però 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 l'imboccatura è davvero molto piccola per caricare la aero ho dovuto caricarlo solo tramite il converter non intingendo il penino comunque quando le cianci e andiamo un po con il nostro cotton fioc a vedere come la resa cromatica di questo di metro brown prima passata poi adesso andiamo a dare qui magari una seconda passata andiamo a fare anche un piccolo zoom in modo da farvi capire un pochino meglio come questo come potete vedere è un marrone caldo non certo chiaro lo metto in paragone con altri inchiostri marroni il da e min one brown sicuramente più scuro o un nostalgico nei della guitar molto più chiaro e il curetà che ebicia che forse la luce non aiuta ma è decisamente più sul color melanzana bene andiamo subito però a scriverci così vi dico anche un po quali sono le mie sensazioni di scrittura con con questo imposto per prima cosa andiamo a fare la griglia per poi valutarne la resistenza all'acqua bene allora tonalità tonalità allora loro dicono che ha del è un marrone con dei riflessi verdastri io questi riflessi verdastri sinceramente non li vedo questo green scene di cui loro parlano però è sicuramente come vedete un inchiostro che ha dello scena tonalità marrone scuro un marrone scuro però piuttosto piuttosto caldo piuttosto interessante come dicevamo andiamo a parlare un po della saturazione la saturazione è veramente in questo caso devo dirlo ottima è un inchiostro estremamente leggibile estremamente saturo anche se ricordiamo un inchiostro a base d'acqua quindi non problematico però ha veramente un'ottima un'ottima saturazione vediamo un po il tempo di asciugatura siamo su carta da fotocopie quindi ma aspetto tempo d'asciugatura ragionevole vediamo se sono sufficienti cinque secondi io non lo vedo con un inchiostro proprio liquidissimo ma vediamo un po e de cinque secondi non siamo ancora al sicuro probabilmente con dieci secondi dovremmo essere quasi quasi tranquilli e poterci passare sopra non può vedere no non ancora quindi il tempo d'asciugatura io lo stimerei in 15 secondi allora è un inchiostro come la lubrificazione del pennino la lubrificazione del pennino è buona e sapete perché ve lo dico perché questa diplomat aero è una bellissima pena io l'amo tantissimo ma cambia molto comportamento poi mi direte tutte queste in particolar modo a seconda dell'inchiostro che ci andiamo a mettere e la lubrificazione qua è buona la penna scorre bene la rimane un leggerissimo feedback ma questo penino m un leggerissimo feedback ce l'ha quindi lo valuto veramente buona andiamo a a vedere un po lo spiumaggio e per vederlo occorrerà ingrandire ancora un pochino di più eccoci qua lo spiumaggio e adesso qua proverò un pochino più a calcare ma io direi che lo spiumaggio è assente proprio non lo vedo eppure siamo su una carta come dicevo non certo di grande qualità il glitter glitter non c'è non è un inchiostro riterato glitter no andiamo un po a vedere se l'inchiostro trapassa o meno il foglio sono molto molto curioso bene ha voltato la pagina il trapassamento un pochino è un pochino c'è non è proprio basso è lo definirei moderato lo definirei un trapassamento moderato non eccessivo è moderato sicuramente su carte più pregiate e non avete nessun problema beh andiamo però adesso è il momento di fare il test col nostro cotton fioc bagnato d'acqua vedere se l'inchiostro è waterproof prima passata seconda passata terza passata no ci accorgiamo che questo non è un inchiostro waterproof diciamo che la resistenza resistenza all'acqua è veramente nulla nulla bassissima contesto di utilizzo ma il contesto di utilizzo direi informale sicuramente non è un inchiostro formale perché pur sempre un marrone per contesti formali usiamo magari neri o i blu scuri eccetera eccetera costo allora non è un inchiostro economicissimo ovviamente costa meno degli inchiostri primi non giapponesi ma costa di più di molti altri perché siamo intorno ai 19 euro per una boccetta da 50 millilitri insomma il costo non è sicuramente abbordabilissimo considerazioni a me questo incostro onestamente ha un po sorpreso ma perché come vi dicevo con gli altri marroni che ho sia col war brown soprattutto con un war brown ma anche il nostalgico neanche un bellissimo colore però non proprio per tutte le stagioni ecco invece questo l'ho trovato veramente buono ecco poi magari come è capitata la boccetta fortunata ecco sicuramente non ha riflessi verdi se ho cercato un inchiostro marrone con riflessi verdi a differenza di quello che loro dichiarino non è così però è sicuramente un buonissimo inchiostro un po diverso dai soliti perché come vedete il suo punto forte a mio avviso è veramente la saturazione poi questa questa riferimento alla mitologia mi è piaciuto molto per quello che può valere un po un po diversa un modo un po diverso di nominare l'inchiostro e quindi in definitiva vi direte ma orso alla fine questo inchiostro ce lo consigli è un inchiostro da tutti i giorni allora non è un inchiostro da tutti i giorni perché secondo me un marrone difficilmente un inchiostro tutti i giorni però l'inchiostro che ha una tonalità interessante e non abbiamo detto adesso lo scriviamo shading e ce l'ha come si è un inchiostro con molte molte sfumature è un inchiostro che a mio avviso è davvero interessante allora decidiate di comprarlo presso il sito stilografico.it lo sapete già abbiamo una convenzione basta che inserite la paralina stilorso e avrete diritto a un 10 per cento di sconto se vi piace questo inchiostro da parte mia non posso lamentarmi per il suo comportamento tutt'altro che problematico bene spero di non avervi annoiato e insomma di avervi tolto qualche curiosità su questo laban demeter brown peccato ecco peccato per questa imboccatura della veramente stretta anche se protagonale è molto carino va bene vi invito a scrivervi al canale mentre mi piace fate come volete un abbraccio e alla prossima da stilorso